Allora, noi siamo arrivati più o meno a metà, insomma Ok Mi sarebbe piaciuto farti vedere anche il resto, ma diciamo che secondo me l'hai Trassi, ah sì sì, l'ho visto, l'ho visto L'hai già visto Direttamente in live l'ho visto poi L'hai già visto ampiamente Ma infatti guarda, io mi è arrivato, ma io in realtà non ero in live Mi è arrivato un messaggio da un fan, mi hanno detto Guarda che c'è, stanno distruggendo del film Ma che cazzo dici? Ma in che live? No, più che Ma sì, ma io mi sono messa poi a guardare la live perché sapevo che avrebbe parlato di me C'era palese Quindi già, poi dall'inizio mi andava frecciatine contro di me Quindi ad una certa ho detto, sì, parlerà sicuramente di me Cioè, adesso io non voglio chiederti che cosa è successo, anche perché insomma Beh, più o meno sai comunque Sì, no, ma io personalmente la so, ma non sono certo io che la racconterò E non sono cazzi miei Però ecco, quello che io ti chiedo è come mai arrivare a parlare in live Di una roba del genere Ma tra l'altro sapendo perfettamente Simone sa perfettamente insomma che eravate in scazzo Appunto, appunto, lo so Ma infatti non ho capito sta mossa di Simone Però non so perché lei voglia rendere pubbliche faccende private Mi sa un po' di infantile ecco Cioè perché devi rendere pubbliche queste cose? Che poi lei per prima ha risolto appunto pubbliche queste cose durante l'estate Dopo aver litigato Ah le ha messe pubbliche, cioè queste cose lei le aveva già dette tipo su Instagram immagino Più o meno sì, nel suo secondo profilo Ma andava sempre frecciatine Che poi durante la live ha detto molte cose errate Mi ha fatto passare per quella che l'ha attaccata per prima Per quella un po' stupida anche Cosa che non è assolutamente vera Ma anche se fosse Cioè come vuoi rispondere Perché la cosa che a me ha dato più fastidio Cioè guardando in generale Avessero detto a me queste cose Tico mi dici che sono La cosa che mi ha dato più fastidio Oltre al fatto di non poter replicare Perché sei stata anche bannata in chat Sono stata bannata Cioè io stavo scrivendo tranquillamente no? Stavo rispondendo alle sue accuse Sono stata bannata Cioè mi ha tolto la libertà di difesa La libertà di parola Certo, è già questo Ma ti sembra il caso? Non so Mi attacchi E io non posso replicare E questo è brutto Assurdo Più che altro Cioè farti dare del soprammobile Della ragazza tutta tette Zero cervello Non seguitela Perché è solo tette Non sei Cioè ma chi sei tu per dire queste cose? Cioè chi ti crede di essere innanzitutto? Io non lo so Io infatti sono dimostra allibita Cioè lei però Non so Tanto di quella cattiveria dentro Si fa vedere come una bambina no? Ingenua Inerme Così Però poi c'è una cattiveria dentro Questa ragazza La sfoga contro di me a quanto pare Tant'erebbe ripressa Non lo so Sì ma è giustificata La domanda mia è È giustificata? Cioè nel senso Non voglio sapere È giustificata? No la domanda che mi faccio io è È quello che chiedo a te È giustificata sta cattiveria? Cioè c'è qualcosa? È successo qualcosa? Secondo me no È appunto Io non ho fatto nulla Io sono Io non Non sono di quelle persone a cui piace litigare O Che attacca per prima Io mi faccio sempre i cazzi miei Ecco io penso solo a me stessa È brutto Non lo so Non so se sia una cosa positiva o negativa Ma io penso sempre a me stessa Ma Cioè non Non attacco mai nessuno Non faccio mai Del male a nessuno Cioè io sono buona con tutti E poi questi se ne approfittano Non lo so No ma più che altro Gratuitamente Cioè il discorso è Il discorso è Anche perché lei poi Cioè mi ha sparato tante cattiverie in live Senza argomentare Senza dire il motivo per cui dice quelle cose Cioè non c'è una base di fondo Non Sì che sì Sono cattiverie ingestificate appunto Che se dice almeno determinate cose A un certo punto Insomma vi spiego anche il perché no? Cioè nel senso Argomento quello che può essere il mio pensiero Visto che l'hai tirato fuori No? Sì Però se non lo tiri fuori Questa cosa ovviamente lascia un po' la mano in bocca Ma lascia la mano in bocca Proprio il discorso Ne parli E poi dici sono a casa mia Faccio il cazzo che voglio Addirittura ti banno Così tu non puoi neanche scrivere Non puoi neanche E poi tutti che tirano indietro la mano E dicono no ma io il sasso non l'ho tirato Cioè mi dispiace di aver tirato il sasso Anche Simone Che si mette a dire È una ragazza secondo me Senza personalità Che ancora deve mettere sulla personalità Allora anche appunto Anche questa cosa Mi è stata un po' sui coglioni Se posso Se posso dire Certo ma nel chilling più totale Io so chi sono So che carattere ho Penso di essere ben formata E so pure chi non voglio essere E come non voglio essere Quindi persona più sicura di me Non penso esista E secondo me Più che altro Quello che non è ancora Ancora ben formato È lui piuttosto Perché comunque lo ammette anche lui in live Cioè non è una cosa che penso io Lo dice proprio lui Che cambia da un giorno all'altro Così Direttamente parlando Io l'ho vista come una gran paraculata E visto che vi conoscete Posso dire che siete amici Ma poi lui sta come sono Appunto Sono usciti diverse volte Cioè abbiamo fatto serate insieme Ormai mi conosce Penso Abbiamo fatto una vacanza insieme Fino a prova contraria O sbaglio Appunto Sì sì Appunto Io non so Non so che cosa Che cosa abbia pensato in quel momento Non so Ma io ti faccio una domanda E poi puoi anche non rispondere Ma scusami Vai vai Simone e Barbara si stanno frequentando Ma che ne so io Io non parlo con lei da mesi E con lui non parlo di Cioè no Da parte di Simone non c'è niente Anche perché poi ha detto Che si sta sentendo con un'altra ragazza Quindi Frequentando no Non penso proprio Poi Secondo me da parte di lei C'è qualcosa sotto Perché comunque in live si è notato Un certo Attaccamento Non so poi Io non la conosco Non mi riguarda Io non la conosco per dire Non mi riguardano queste cose Onestamente A me non attira proprio Niente di lei Ma questo ripeto È un mio pensiero personale Anche perché Cioè io A me attirano molto le teste Più che i corpi Ok Quindi cerco sempre il dialogo E quant'altro Da parte sua Non vedo questo Ma è quello che io ho visto in live Magari fuori in live È una persona diversa Non sto Stavamo a giudicarlo Però sicuramente Sicuramente Queste sono state uscite A vuoto Dopo sei mesi Che non facevi live Avevi tutto il tempo Di parlare Dei tuoi sei mesi Piuttosto che andare a tirare fuori Magari l'ha fatto Sicuramente Ma lei non vedeva Non vedeva l'ora Di iniziare la live E parlare di me A quanto pare Sarò stato il suo content Non so Più alto Non so L'unico content Che poteva Portare A quanto pare Non so L'unico che aveva pensato Di portare in live Non lo so Guarda A me dispiace Ma mi dispiace Più che altro Veramente L'atteggiamento Adesso ti condivido Così finiamo il video insieme L'atteggiamento Proprio di superiorità Ecco Questo a me è dato fastidissimo Cioè La superiorità Nel dire Guarda che Cioè nel senso È un dato di fatto Che tu non conti un cazzo Non ha detto così Però Insomma L'ha fatto capire Ha detto poi Non seguitela Anche perché È una persona noiosa Ma Scusa Ma Che vuol dire Che sono una persona noiosa Chi te l'ha detto Cioè nel senso Chi Lei Io Allora Sono una persona calma Ma calmo Non è sinonimo di noioso E poi È un difetto Essere una Cioè persone calme No Anzi Tutta Allora Non seguitela Non seguitemi Perché sono una persona calma Tranquilla A cui non piace litigare Mi fa Mi fa molto No più che altro Mi fa molto ridere Il fatto che Dia della noiosa Noiosa Vabbè Questo è mio personale Mi prendo La responsabilità Di quello che Dico Non mi sembra Sicuramente La vita Fatta in persona Per cui Punto Mi ha fatto molto ridere Guarda ti condivido Lo schermo Guarda che Fuori dalle live Poi va in giro E direi Che io sia Una persona Senza amici Ma anche questa cosa Ti sembra una cosa C'è un difetto No Io gli amici li ho Li ho anche in tutta Italia Ne ho un botto di amici Ma non vuol dire niente Comunque Ma no Che vuol dire Tu Tu non esci con me Mi escludi Perché sono senza amici Sì È un po' Sì un controsenso Se vogliamo No ma guarda che Dice tante di quelle Cioè Ti dice tante incoerenze Cioè tante 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 frede incoerenti Dici durante la live Adesso se Se ne capita Te l'ho condivisa Adesso ci sono Insomma ci sono altri Tre minuti Di torpilocchio Insomma adesso Vediamo un attimo Cosa Vediamo Commentiamo un po' Cosa salta fuori Devo stare zitta Dimmi se lo sei senti E vedi Allora Ah guarda in diretta Devo cliccare Sì Ecco Sì Ok Devo stare zitta Non posso offendere Dai Cazzo Barbara Falsità No guarda Non è falsa Barbara Dice quello che pensa Anche in modo molto diretto A volte può sembrare acida Cattiva Sono acida Molto Cioè Mi capita Mi capita di essere acida Ma non mi ricordo Ha cominciato Barbara Dato che questa live È pure per far capire Appieno la tua vera personalità Sei impulsiva Io sono impulsiva Cioè Potrei dire altre mille cose E lui ha fermato Ah quindi è Simone che ha salvato la situazione Tra un po' c'è un pezzo in cui Svalvola Falsissimo Ok Aspetta vediamo se Vediamo 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 Giusto Penso di star facendo la cosa giusta in questo momento Dovegli farla prima Il campione per l'idea come prima live Dopo tanto top content Sì Barbara Marrocco Dissa Delfina Martinez Ehi super contento Non puoi blastare una persona Perché è noioso Ma chiaramente c'è altro Chiaramente so cazzi loro Si evince che non è solo questo Però ripetiamo Sono cazzi loro Quindi secondo me Meglio se non ne parlate qua Ma non potevano essere cazzi loro anche prima? No infatti Prima di dire Scusami Ma che rapporti hai con Delfina? Dai Visto che è il tuo canale Diciamolo Beh Mi sembra una paraculata clamorosa Ma mi dispiace Cioè nel senso Mi dispiace Io non ce l'ho né con Simone né con Barbara Simone men che meno Perché lo conosco Barbara Non la conosco No ma neanche io con Simone Però zio Zio porco ma evita Ma lo sai? Evita Sì Allora mi vuoi dire che Nella tua testa è Lo dirò fuori Spero che dall'altra parte Venga messo la calma Ma visto che conosci Barbara La conoscevi Che era Che è una ragazza impulsiva L'hai appena detto Che la conosci Sapevi perfettamente Che avrebbe tirato fuori Altre robe no? Avrebbe Marciato sopra la cosa Quindi di che cazzo stiamo parlando? Ma quanto pare E ciò che voleva Nel senso secondo me Prima della live Ne hanno parlato Su cosa fare in live E si saranno detti Parliamo di delfina Cioè era È palese Guarda Prendiamola come illazione Mi sta bene Può essere un tuo pensiero Non si sa Però indipendentemente da Conosci Barbara Conosci delfina Tiri fuori il discorso That's Svialo Se sai che poi può creare dei danni Svialo Ma soprattutto poi dice Guarda però c'è delfina in chat Cioè nel senso Punta anche il dito Lo fa vedere Ma che cazzo Ma morrale lì Cioè poi Lui chiede scusa In effetti lui dice Guarda tutta colpa mia Però insomma Troppo tardi Sentiamo un attimo qua Ha detto che c'è il momento Un momento sublime Ripeto Dille tutte dai su Scrive delfina Io me ne dirò fuori Anche perché No non posso dirlo Cazzo Ma che palle Ma non c'è Non posso fare la cattiva Ma per questo C'è capito Perché Pino Per ora cosa è stata No infatti Non si sa taci Da arrogante Tutto il resto No Insomma Bella Joy Ciao bellissimo No certo Chester Non ha colpe Non ha colpe Perché non è che lui Che pensa queste cose Però sicuramente Poteva smorzarle Poteva smorzarle Quello sicuramente Avrebbe potuto farlo Onestamente Ma ripeto Cioè Pur parleto tale Pur parleto tale Si impone Sant'Ore Dovrebbe essere Good vibes only Ok Pure questo qua Appesantisce un po' l'aria No pure sta cosa Dove sta No ma in realtà Io mi diverso Lo so Però questo è uno show Per le persone Capito Ma questa Di litigare è uno show Lo so Io posso fare un sacco di show Ragazzi Però Ecco L'ha appena ammesso Show L'unica cosa che sa fare Dissing Si ma show su che cosa Show su che cosa Si infatti Poi non ha dato Sfigazioni Non ha dato Sfigazioni Quindi le persone Stanno lì Ascoltano Ok Sta dicendo Delfina Ma perché Eh eh Capito Vuoi fare show Vuoi fare show Ma almeno Fallo fino in fondo Almeno fallo bene Ah Cioè Se proprio Deviamo divertirci Divertiamoci Fino in fondo Non semplicemente Dicendo Ma è un involucro Ok Ma che smorzarle Se le ha dette Barbara Queste cose Che cazzo Deve mettersi Di mezzo lui Giulla Li ho già fatto vedere Volete che ve lo rifaccia vedere Che lo ritiri fuori Non facciamo I partiti presi Per l'amor di Dio Lui stesso Aumenti di aver sbagliato Dicendo le cazzate E poi Soprattutto Avrebbe potuto Smorzare la questione Dai Ma per me è andata Quindi No no Finiamola Giù È arrivato Lungo Non ha visto Tutte le cose Come fate Di solito E questa cosa Ovviamente Mi sta sul cazzo Perché poi Clippate E guardate Semplicemente Quello che vi interessa Noi stiamo facendo Un'analisi a 360 Ok Andiamo avanti Non mi va Però in questo caso E non posso dire altro Perché più parlo Più Va avanti Ma sai con quante persone Sembrate padre e figlia Ma non siamo Ha parlato fino adesso No no Ma Momin Guarda Grazie a Dio Lo dite voi Perché Perché se no Sembra che sia io E dico Ha aumentato il flame No Lui poi ha cercato Di smorzarlo Ma è quello Che l'ha introdotto E poi si Dici bene Parla Parla fino in fondo A quel punto È un quarto d'ora Che parli di me Di queste robe Parla ormai Io ho semplicemente visto la scena Per me è stata una scena ridicola E lascio la libertà A Delfina Di parlare Esatto Di rispondere Perché non ho avuto modo Di rispondere Visto che mi ha bannato Dalla chat Questo altro atteggiamento Che insomma Non dimostra Una gran maturità Anche nei confronti Del confronto No Vuoi fare dissing Eh cazzo Nel senso Cioè Non sei Dio Non è che ti puoi prendere Tutto quello che vuoi No Infatti Ma poi tipo Almeno al cerbero Quando attaccano qualcuno Ti danno sempre il modo Di rispondere Di replicare Fanno anche le live Confronto Certo Lei è zero No tranquillo Giulia Non era questo No no Infatti 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 Proprio questo è il discorso Sono un po' come te E non le mando a dire Specie se c'è poi Una persona Che vede in chat Che 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 mi dà adito Tu hai dato Io ho letto i messaggi Che hai scritto Hai scritto Ma cosa state Ma cosa state Ma cosa state Dicendo Siete pazzi Ha 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 Sì Esatto E poi Stavano parlando Sì ho scritto Tant'è che sei Che riesci a litigare Con tutte le tue amiche Una cosa così Ho scritto Cioè fatti due domande E i tuoi amici Erano i miei amici Alla pari Giusto Cinque messaggi Scritto Per cui Che adito ha dato E poi mi ha bloccata Quindi non ho più potuto Se non avrei continuato Però a quanto pare Dava fastidio La verità Gli ho detto dal vivo Gli ho detto per iscritto Ecco Ah ecco Qua sta parlando di me Sì va bene Ecco no Dal vivo Non me l'ha detto dal vivo Perché praticamente Allora Avevo litigato Durante l'estate Io prima di litigare Con lei Era andata a Milano Così Quattro Cinque giorni E niente Le chiedevo sempre Di uscire Cioè così Per vederci Perché era mia amica Io non ho fatto Niente di male Così E lei si inventava Sempre delle scuse Per non uscire E ho detto Boh vabbè Pazienza Però le sue cose da fare Poi vabbè Sono uscita con un suo amico Siamo andate a Roma E gli fa Dei fino a un pagliaccio Così vabbè Gli ha iniziato Tutta la discussione Però comunque Lei non è stata Cioè non è stata Diretta con me Non mi ha detto Le cose in faccia Ma gli ha detto Dopo un po' Cioè dopo un tos Mi ha detto Dopo un mese tipo E per chat Quindi È un altro punto Ah che appunto Questo pezzo Si ricollega A un altro pezzo Di live In cui Dice che Oddio non mi ricordo Cioè ha detto La cosa Ha detto La cosa Opposta A quella che poi È stata La realtà Sì sì L'ha detto Su di te Quando magari Era su di lei O viceversa Giusto? Sì una cosa così No forse È inizio live Quel pezzo È fondamentale Perché Allora Lo riguardiamo Lo riguardiamo Tesoro di quell'esperienza A Mirabilandia Che è solo Parla di Mirabilandia Mirabilandia Tra l'altro In cui c'eri anche tu A Mirabilandia Giusto? Sì sì Se non anch'io Mirabilandia che solo tu sai Solo tu sai che è successo A Mirabilandia Con Delfina E Max Cos'è successo a Mirabilandia Simone è un personaggio Va detto Cioè la verità È una persona Troppo È una mia opinione Credo sia un dato di fatto Non è un dato di fatto No non ho detto Che è colpa di Simone Ragazzi Basta Basta prendere le mie parole E rigirarle come i calzini Per l'amor di Dio Sì ho l'assassione Per tutti Va bene Ragazzi Ok Non me ne frega un cazzo Mi dà fastidio Che si dia Si cerchi di dare Per vero Un'opinione Un'opinione Non è mai vera Cristi Dio Appunto Cioè poi che è lei Per dire queste cose Barbara Marocco E Barbara Marocco Ha detto Di non seguire Delfina Ragazzi Marocco Ma come Marocco Marocco No come si chiama Marocco Marocco No 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 Delfina no Delfina no Delfina no Ti prego Ti prego Vabbè Ah cazzo Due R Marocco Con due R Andiamo avanti Marocco Ok Barbarella Pardon Barbara Marocco Andiamo avanti Veramente E' impossibile Parlare con lei E' avere una conversazione Con lei Perché Non parla di nulla Sta zitta là Ferma un angolino Tipo un soprammobile E io ve l'ho detto Cioè non è che No non me l'ha mai detto In realtà La versione di questo discorso Non da 19enne acida Ma da persona magari un po' più matura È questa Delfina secondo me Deve ancora capire chi è Non ha una personalità Non ha una personalità Ancora sviluppata al 100% Ed è normalissimo Per la sua età A volte incontri gente Sempre sua coetanea Che magari c'è una personalità Sviluppatissima Magari più della mia E a volte incontri gente Che magari ancora sta Durante il percorso Quindi secondo me La cosa principale È quella Però comunque Io le voglio bene Cioè è l'opposto Sono loro Che non hanno ancora Trovato una personalità Cazzo Cioè io Sono sicuri Cioè io Io la mia personalità Ce l'ho già So già chi sono Come sono Cioè Sono anche come Cazzo Non voglio essere Ma allora Il discorso di Simone Allora Il discorso di Simone È anche giusto Ma è un discorso generale Cioè magari non è Per forza rivolta a te Questa è la Ha semplicemente detto La sua opinione Parla di me Sì È la sua opinione Su di te Tu eri a conoscenza Di questo suo pensiero No Cioè non pensavo Pensasse questa cosa di me Visto che mi conosce Penso Cioè benissimo No Però comunque Siamo usciti E tutto Quindi Infatti Cioè non ci sono rimasta male Però mi è sembrato strano Che dicesse queste cose Ok Non Cioè nel senso Non ho pensieri a riguardo Quello che dice Simone È giusto in generale Magari Nello specifico Magari prima di Di far uscire queste cose Poteva dire Oh chiudiamola qui Perché insomma Stiamo andando Già troppo oltre Perché ha già detto cose Ampiamente discutibili Cioè Ma poi senza una persona Come la tonina della sfigata Sì no Sfigata Perché stai guardando la live Nel senso Beh allora Cioè E' ovvio che la guarda Cioè Ci sta Questo ci mancherebbe anche altro Vabbè Fa anche le storie In cui fa la bambina Tutta tenera Così un po' Depressa Però dentro Appunto Tanta Tanta Cattiveria Io Cioè Vorrei troppo farvi leggere Il messaggio Che mi ha scritto Tu Pippo Mi sa che l'hai letto L'hai letto Non so Un po' Di tempo fa Ma c'è tanta Tanta Sì Cioè Spara tanto Di quella Cattiveria Contro di me Cattiveria Gratuita Poi Cioè Voi non la conoscete Non è quella Che vedete in live Non è affatto così Non è il visino Dolce Buono Che poi Ha avuto Da ridire Con tantissimi Altri Influencer Streamer Che io All'inizio dicevo Cazzo Che stronzi L'attaccano tutti Avevano ragione Questi Cioè Mi sono accorta Che avevano ragione Cavolo Posso darti un consiglio Però Delphi Proprio spassionato Sono andata Un po' Troppo oltre Mi dispiace No Lascia stare questo Io Proprio per un discorso Di quieto vivere Magari Tu cercherai Il confronto Magari lo cercherà Anche lei Questo io Non lo so Io No A me sinceramente Non interessa Cioè Lei sono antipatica Non mi interessa E stare simpatica A una persona Cioè A cui non piaccio No Però cercare di chiarire Cercare di chiarire Anche perché Una situazione del genere È replicata Perché il rischio Che magari si replichi Perché poi sai Come funzionano queste cose Il rischio che si replichi Nel tempo Non è neanche Cioè è anche Un po' stucchevole Io Mi piacerebbe Sì Chiudesse qua Ma è impossibile Se è meglio di me Sì No io Ho dato la mia opinione Poi Lei mi ha attaccata così Mi ha reso pubbliche cose private Ovviamente Una risposta comunque L'ho dovuta dare Cioè Sono stata obbligata A darla Perché se no Non mi faccio mica mettere Il piede in testa Da questa Quindi Certo Lo capisco Mi ha dato fastidio A me Ma più che altro Mi ha dato fastidio Il non diritto Di replica Lei sul suo canale Può fare altamente Il cazzo che vuole Per l'amor di Dio Però Sai È veramente Come se io parlassi A una determinata persona E poi questa Mi spawna in chat E dico No no Bannate Perché voglio dire la mia Senza Il diritto di replica Io penso che un confronto Più che in live Privato Anche se ripeto Ho letto le conversazioni Ho visto un attimo Senza poi divulgare Insomma Non c'è Tanto margine di manovra Da quel punto di vista No infatti È comunque molto È comunque molto Antipatico Sì sì Qua ci si cerca sempre Di argomentare In casa mia Questo è un po' il pensiero Per cui Dispiace Dispiace Perché comunque sono Ma guarda che Comunque Vabbè adesso Mi ha Sperato Cioè Della merda addosso Così Ma comunque a me Cioè io non ce l'ho Contro di lei A me fa tenerezza Lei Cioè non è che Non la odio Non provo odio Cioè mi fa tenerezza Anche perché poi Era mia amica Eravamo anche molto belline Insieme Cioè io Le volevo un botte di bene Poi ho Cioè Così Tutto un tratto È cambiata Mi fa Mi senti patica Poi mi ha iniziato A sperare Merda addosso Quindi Non so Sì 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 No no Arisd Ma è correttissimo Quello che dici Casa mia Regole mie Però Posso permettermi È una dittatura No Cioè nel senso Posso permettermi Di avere un'opinione Che nel momento Spiace Nel momento in cui Tu parli Di una determinata cosa Sapendo che Comunque dall'altra parte Ci può essere Una reazione Anche negativa Per dire Oh Cici scusami Ma nel senso Ma che cazzo Stai dicendo Cioè parliamone Tu blocchi La conversazione E la blocchi Soltanto dalla tua parte Per me parti Subito nel torto Cioè Questo è un mio pensiero Non è totalitaria Questa cosa Ma è un mio pensiero Parlo di una persona Parlo di Delfina Lei arriva Scrive in chat Dico Guarda Delfi Entra e parliamone Così abbiamo risolto Il problema Esatto Una chat È una dittatura Sottoposta al volo Del singolo Con la libertà di andarsene Se non piacciono le regole Per l'amor di Dio Ma questo non esula Esula comunque Dal contesto E dal discorso Che io posso dire Guarda che le tue regole Non sono il massimo E soprattutto L'atteggiamento che hai Non è il massimo Perché non ti qualifica In maniera Positiva Questo è il mio Pensiero Danny Arteca Pipega TV Suo canale Fine Non sto dicendo Che è la totalità Però Secondo me Buona parte La penso come me Buonissima parte La penso come me E soprattutto Del fine Che comunque Mettete bene i miei panni Cioè In tal caso Prima porta a destra Sì Sono d'accordo Arisd Però Resta comunque una cosa Poco Poco lusinghiera Poco lusinghiera Perché comunque Parli di un'altra persona Parlane Parlane con questa Con questa persona Perché potrebbe essere Che saltano fuori Delle cose Che magari Non vi siete chiariti Chiarite nel tempo Che vi siete portate dietro Magari a lei Sono stati sul cazzo Alcuni tuoi atteggiamenti Alcuni suoi atteggiamenti Tuoi atteggiamenti Sono stati sul cazzo A lei Ci può stare Ma come due persone Intelligenti Si parla E si cerca Il confronto Io non so In realtà Non so manco Il motivo Per cui Lei ha iniziato Ad attaccarmi Cioè dall'inizio Proprio Non ho mai capito Il motivo Per cui Ha iniziato Tutta sta Sta guerra Un'idea Un'idea Te la sei fatta Lei che dice Tanto di essere Diretta Diretta Ma Io non so ancora Il motivo Vero Di tutta Sta roba Cioè Ok Ma tu un'idea Te la sei fatta Giusto per Per Io ho un'ipotesi Ok Possiamo anche Non parlarne Tranquillamente Eh sì Forse l'avevo già detta Anche a te Perché è un po' No no Io non voglio Entrare nei cat No no Per l'amor di dio Ma non è nulla di grave Questa Questa mia ipotesi Appunto Per tutta sta cativare Non è Non ho fatto niente Cioè praticamente Ho fatto una domanda A un suo amico Appunto Una semplice domanda Per una semplice domanda Fai tutta sta roba Cioè tu hai scritto Un messaggio A un A un suo amico Che penso che poi sia Un amico comune In realtà Un amico comune Che abbiamo Sì E ho fatto una domanda E poi Forse per quello Però non ne sono sicura Mi sembra un po' pochino Cioè ripeto Io vi ho visti Vi ho visti Vi ho viste Anche a belle affiatate All'evento del Cerbero Poi vi ho viste Anche da Da Paolo Se non erro Noi appunto Eravamo molto amiche Poi non so Tutto un tratto Durante l'esate È impazzita Non lo so È iniziato a fare Sta roba Non lo so Io non sono Una persona Che Io cerco sempre Di non fare Del male a nessuno Cioè io non sono Non sono pettegola Non so niente Non Faccio i casti miei Perché devi far così con me Cioè Non lo so Mai capito Si vede che ha tanta Ma le stavo già antipatica A quanto pare Cioè Falese Non so per cosa Ci avrà tanto rancore Ma probabilmente Non ce l'ha solo con te Cioè magari È un discorso generico Cioè ce l'ha con anche altre persone È una persona magari Rancorosa Che magari Che però fa la live contro di me È solo contro di me Sì questo Non lo so Non è il massimo Non lo so Rick Non lo so Non lo so Rick No Cioè adesso Ripeto Simone ha detto delle cose giuste E magari non pensava Io Adesso Cazzatine a parte Come abbiamo detto prima Penso che anche lui Non pensava che magari Si arrivasse a un determinato punto A questo determinato punto Pensava Insomma si finisse molto prima Ecco Questo è un po' il discorso Voglio pensare male Se fosse tutta una complottata Per aiutare l'amica A risalire l'hype A seguito del suo ritorno Non lo so No Guarda Aris Te lo do Sicurati Guarda posso Posso dartelo per certo Mi prendo le responsabilità Di quello che dico Io So Perché insomma Io e Delfina Dopo Il Delfina sta bene Tutte le cazzatine Siamo Siamo tornati in pace Come due esseri umani Normalissimi Che hanno parlato Cioè già da mesi Abbiamo passato l'estate insieme E io tutte queste cose Le sapevo già da prima Ok Quindi vi do La certezza Che assolutamente Non è una cosa preparata E dispiace ancora di più Perché Insomma si dici Cazzo vogliamo fare del Del cinema Facciamo del cinema Facciamo del cinema Però lo facciamo in due Ok Il che ci può stare Che vi piaccia o no signori Vi do una novità Tante persone fanno così Tanti content creator fanno così Ok A me farebbe schifo far così Infatti a me Questa roba mi sta facendo schifo Però È Capito È un po' È un po' da Non posso dire Ciao Anna Sì Del fine Se ti senti in pericolo Sbatti gli occhi Dicendo Guarda che Con me vi assicuro Che è difficile Essere in pericolo Adesso cazzatina a parte No ma poi si porta avanti Tutto sto Sto bailame Ma Non è assolutamente così Anzi A me proprio Ha dato fastidio Che non c'è stata Proprio C'è stata la censura E il non diritto Di replica Ma sei visto Quando mi ha bannata Cioè ha perso un cartellino No Nessuno l'ha saputo No 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 Me l'hai scritto Me l'hai scritto Tu in privato Sì Ok ok Me l'hai scritto Tu in privato No pensavo Perché poi non ho risposto Di dire Free Delfi Una cosa così E non so Io non potevo scrivere Perché Hai dici minuti di follow Sì Nel senso io L'ho seguita Un paio di live Ma senza essere Un follower vero Suo Per cui Pippo A parte che la Marrocco Sembra che è appena Uscita dalla prima comunione Visto che dice Di non seguire Delfina Mi dici Come trovo Delfina Su Instagram O Twitch Ci penso io A seguirla su Allora Si chiama Gigoldiva Su Instagram Con due A finali Se non erro Giusto Sì sì Giusto Ecco Ecco Accidenti La radio cronaca Il pippega No no Ma io Ragazzi Ripeto Sapete che a me Piacciono queste cose Cioè Devo essere onesto Perché tanto Se no Non le nascondo Mi piace Andare a vedere Queste cose Perché Mi intrigano Mi danno spunti Di riflessione Non per quello Che sono live O quant'altro Ma proprio per come Ci si comporta Come le persone Ci si comportano Che è il mio format Ok Cercare di capire Le persone Per cui Onestamente Tutto il resto È cinema Mi dispiace Appunto Che non Non ci sia stato Questa Questa replica E ripeto Io spero Che voi Riusciate Prima o poi A Appianare Questi Questi Quest'alterco Cercare di Tranquillizzarvi Anche perché Insomma Tu sei personaggio web Lei è personaggio web Fino a prova contraria No Sì E quindi Cioè Questa roba Secondo me Non aiuta Nessuno E soprattutto È brutto Perché Vi ho viste Tanto affini In tante cose Sì Infatti A me è dispiaciuto Cioè Mi è dispiaciuta Questa storia Ricky Ma non tanto Per risanare Il rapporto Magari anche Per tranquillizzare La serie Oh tu fatti i cazzi Tu hai Che mi faccio i cazzi I miei Potrebbe già essere Quello è il mio mood Di vita proprio Potrebbe già essere Un ottimo Potrebbe essere Già un ottimo passo Non credi Io? Sì Cioè Già Ognuno si faccia I cazzi proprio Così andiamo avanti Belli tranquilli Belli sereni Infatti Io faccio così Ma lei ha il mio nome Sempre in bocca Ma anche fuori Dalle live Cioè Parla continuamente Di me e i suoi amici Quindi Cioè Non so La sua vita Gira attorno alla mia A quanto pare Che sei Cosa sei Banca Mediolanum Costruita intorno Che ne so Si costruita intorno a Delphi Ragazzi Vabbè Giusto Giusto Hai qualcosa da aggiungere Nel senso Giusto per Per chiudere il discorso Perché ripeto Dispiace No Le cose che dovevo dire Le ho dette Mi ha attaccata Così Totalmente A caso Che potevo anche evitare E No L'unica cosa Che appunto La cosa che mi ha dato più fastidio In realtà È il fatto Che lei abbia detto Non andatela a seguire Tutta tette Niente testa Una persona noiosa E una senza amici Quindi Cioè perché la gente Non dovrebbe seguirmi Appunto solo questa cosa Cioè mi ha Mi ha un po' Urtato l'anima A me In tutto questo Proprio il cercare Di essere Superiori Cioè La superiorità La superiorità no Ma lei si crede superiore L'ha pure detto Nel In live Non so se L'avete sentito Ma io mi Mi credo superiore Comunque Una cosa così Quindi Si ha Qualche problema Forse Che tu sia Superiore Agli altri Puoi anche Crederlo E tu ti senta Superiore Ma Ti dico Poi Va anche bene Non va bene Quando Per sentirti Superiore Denigri Qualcun altro Allora Quello Secondo me Proprio in un confronto Bruttino Cioè Ma poi Utilizzando Proprio Becerie Non è che ha Argomentato Con roba Approfondimenti C'è roba Proprio Da terza elementare Mi dispiace Io ripeto Lascerò Se vuole Il diritto Di replica Ma se lo replicherà Nel suo canale Tranquillamente Tanto sappiamo già Come va a finire Ste cose Però Mi dispiace Mi dispiace Perché non è assolutamente Un atteggiamento Da persona matura E che professa Personalità Non professi Personalità Tirando addosso Alle altre persone Io spero che Più che altro Le persone Capiscano Ste cose Penso che in chat Penso che in chat Parecchi abbiano Comunque Cercato di Tranquillizzare La situazione Un atteggiamento 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 Un atteggiamento